salve gente e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale finalmente siamo tornati con i prank in giro e oggi vi porterò con me a disturbare la gente sbattendo le padelle a roma si chiama la cucchiarella vi do un attimo una dimostrazione steso al gira di tutti infatti andremo proprio a farli incazzare io per questo grande ritorno di prank all'esterno con questa situazione soprattutto vi chiedo di lasciare un bel like per la cucchiarella e la padella iscriviti al canale io non mi perderei in altre chiacchiere buona visione se spaventata è una mia tradizione questa quando vado in giro e sono felice faccio quindi capito nome dispiace veramente non volevo spaventate scusa guardiamo il cane come sbrocca è che c'è che è un ruoto l'emozione era l'emozione di vedere tanta bellezza quanto sei bello dove io metto questo ma perché ho visto in difficoltà scusa tranquillo guarda veramente sono mortificato scusate ma guarda non so matto veramente io faccio i video su youtube faccio scherzi e oggi mi hanno detto vai a spaventare la gente facendo i pentolacci quindi è uno scherzo tranquilla non tese veder che sei girata però però se vede che si è saltata è bellissimo sicuramente sarà una cosa stupenda però te l'ho visto scusami però mi sono tagliato scusa ciao spero tanto che questo video vi sia likeato se così è stato venito a lasciare un bel like per il prossimo episodio per un prossimo video sempre scherzi in giro iscriviti al canale per far ragionare su ogni video che carico i capelli giustamente il look sempre deve essere ottimale se mi subito erano proprio con Federico Antoine da poco ma percorso un profilo tiktok mi chiamo Federico Antoine uguale come Instagram se vuoi vado a seguire anche lui io non mi perderei grazie mille per essere arrivato fino a questo punto del video noi ci vediamo in un prossimo video ok ogni volta che facete si girano tutti voglio abbiamo la cucchiarella no no più cucchiarella uno più cucchiarella no 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 no